ecco la testa come guarda la testa? stigati dal volo, stigati! guarda la faccia di tuo fratello mi va troppo a ridere ti amo e ancora stigati dal volo abitarno si si vai pata 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora nipotini mi fa quasi male guardare queste immagini dal Veneto uggioso e grigio di sole e mare, questa famiglia felice che può fare il bagno, il pancione di Ludovica. E invece sono contenta per lei perché almeno lei se la gode. Guardate che bel, poi i bambini sono speciali veramente, diciamo che in questo canale abbiamo solo bambini speciali. Ebbene, spero che voi torniate a vederli con me, ciao!